Saluti a tutti e ben arrivati nel nostro spazio digitale. L'appassionante saga della promessa si svolgerà tra il 4 e l'8 settembre 2023. In questo lasso temporale, la lente narrativa è focalizzata su Curro, l'asse centrale intorno a cui ruota questa trama avvincente. La chiave per decifrare le sue misteriose origini sarà Yana, un personaggio che arriverà a toccare profondamente la sua visione del mondo. L'avvio di questa nuova fase della storia mette in risalto la crescente consapevolezza di Curro circa le sue radici. Yana, con la sua sensibilità empatica e genuino interesse per Curro, dà avvio a un carosello di rivelazioni e domande. Come il loro legame si intensifica, Yana si rivela per Curro una guida preciosa attraverso un labirinto di autoscopertà e verità sepolte. Man mano che Curro inizia a sollevare il velo dei segreti di famiglia, in particolare riguardo al suo presunto padre, comincia a sospettare che la verità potrebbe essere stata distorta. Questo gli infonde una sensazione di inquietudine, un magnetismo verso i segreti che giacciono celati. Ma prima di arrivare al cuore della trama, è necessario fare un salto nel passato. Manuel, dopo un lungo stato comatoso, si sveglia in uno stato di confusione e smarrimento. Jimena, una figura ambigua, coglie l'occasione per tessere una rete di manipolazioni, sfruttando la sua vulnerabilità. Con dolcezza e malizia, le dipinge un quadro di un amore sconosciuto ma intenso tra loro, confondendo ancora di più la sua percezione della realtà. E mentre Manuel tenta di recuperare la sua memoria, la storia prende una piega inaspettata. Le nozze con Jimena sembrano diventare realtà. Nel frattempo, Giana e le altre domestiche, a conoscenza del mistero che aleggia sulla scomparsa del barone, muovono le loro pedine in un gioco rischioso di intrighi e segreti. Catalina, con una crescente sensazione di inquietudine, scopre un segreto perturbante su Don Camillo, il rispettato parroco del paese. Conscia del pericolo che questa scoperta potrebbe rappresentare per la comunità, Catalina decide di condividere la sua scoperta con Don Alonso, una delle poche figure di autorità rimaste affidabili. Don Camillo, sentendosi accerchiato, decide di agire. In una mossa audace, rapisce Don Alonso e il sergente Funes. Catalina, ora a un bivio, deve decidere se agire o rimanere nell'ombra, mentre la tensione cresce e il destino di vari personaggi è sospeso in un precario equilibrio. Il 4 settembre 2023, Catalina attua un audace piano per fermare il sequestro. Armata di determinazione e ingegno, inizia la ricerca di indizi per trovare la posizione segreta di Don Alonso e il sergente Funes, gettando un barlume di speranza in una situazione critica. Mentre ciò accade, Lope, un altro personaggio coinvolto, agisce impulsivamente baciando Maria Fernandez, causando reazioni complesse e rivelando ulteriori strati di tensione nella storia già carica di emozioni e segreti. Nel cuore di questa intricata rete di eventi, Jana rivela a Curro una sconvolgente verità. Il capitano potrebbe non essere il suo vero padre biologico. Questa rivelazione fa tremare le fondamenta della sua identità, aprendo la porta a nuove, incalcolabili possibilità. Così, tra segreti svelati e nuovi interrogativi, tra certezze scosse e rivelazioni inaspettate, la trama continua a infittirsi in un'escalation di tensione e mistero. Rimanete sintonizzati. I pensieri suggeriti dalle parole di Jana sembrano trasformarsi in domande cruciali per Curro. Un sospetto insinuante si insinua nella sua mente. Forse la realtà che gli è stata presentata è solo la punta dell'iceberg e al di sotto nasconde segreti insondabili. Eccitato e inquieto per questa rivelazione, Curro decide di imbarcarsi in una missione personale alla ricerca di risposte. Viaggia attraverso la città di Cruz raccogliendo dettagli che potrebbero svelare la verità sulle sue origini e i suoi genitori. Nel frattempo, l'ambiente della residenza dei promessi sposi è in fermento per l'arrivo imminente del duca degli infanti che sorprendentemente decide di prendere parte ai preparativi nuziali di sua figlia. Questa mossa aggiunge un ulteriore livello di complessità alla situazione illuminando le dinamiche di potere e politica che circondano l'evento. Tra festeggiamenti e tensioni sotterranee, Don Alonso e Cruz si ritrovano in una discussione carica di tensione sul futuro matrimonio di Manuel. Le loro opinioni divergenti su come affrontare la perdita di memoria di Manuel alimentano un dibattito acceso. Parallelamente, Curro decide di confidare i suoi dubbi crescenti a Iana riguardo all'identità del suo presunto padre, Lorenzo. Questa rivelazione aggiunge ancora più mistero alla sua ricerca di identità. Mentre tutto questo accade, un sorriso di soddisfazione si diffonde sul volto di Iana. Ella intravede in questo cambiamento un'opportunità straordinaria per Curro di scoprire la verità su se stesso e forse sulla loro possibile relazione fraterna. Al contempo, Catalina diventa un attore chiave nel corso degli eventi, riuscendo ad arrestare Don Camillo e a portare un senso di sicurezza alla tenuta. Tuttavia, la storia è lontana dall'essere conclusa. L'enigma di Don Camillo e i suoi motivi rimangono irrisolti. I preparativi per il matrimonio tra Manuel e Ximena procedono liscio come l'olio, ma l'ombra di verità nascoste inizia a oscurare la loro apparente felicità. Nel frattempo, Gregorio mostra un comportamento strano, attirando l'attenzione di Romulo e Pia, che decidono di indagare. Il 7 settembre 2023, Curro riesce finalmente ad accedere a documenti di famiglia che potrebbero svelare i segreti del suo passato. Romulo e Pia, nel loro inesauribile desiderio di scoprire la verità, decidono di indagare il comportamento enigmatico di Gregorio. E, mentre Don Camillo si chiude in un ostinato silenzio dietro le sbarre, sorgono nuove teorie sul possibile burattinaio che potrebbe averlo manovrato. La storia si infittisce di nuovi dettagli, sospetti e segreti nascosti. lasciando tutti in trepidante attesa di quelle rivelazioni future che potrebbero ancora una volta ribaltare tutto. Mentre Yana fa i conti con una dolorosa metamorfosi in Manuel, la loro relazione un tempo caratterizzata da un'empatia reciproca sembra ora trasformata in una dinamica padrona serva. Manuel ha cancellato dalla sua mente ogni traccia del loro legame, lasciando Yana fare i conti con la crudele realtà e l'implacabile cambiamento delle circostanze. Intanto, il duca degli infanti manda tutto all'aria. Inizialmente aveva approvato le nozze tra sua figlia a Manuel, ma fa un drammatico dietrofront che getta la comunità nello scompiglio. Questa svolta solleva dubbi sulla sua vera agenda, aggiungendo una nuova dimensione di conflitto a un tessuto già complicato di eventi. Venerdì, 8 settembre 2023, il duca, con una gravità palpabile, si rivolge a Don Alonso per condividere una rivelazione sconcertante. Il matrimonio tra Manuel e Ximena è compromesso. Accusa la famiglia Louis Hanet di aver celato dettagli finanziari che metterebbero a rischio l'alleanza matrimoniale. Questa affermazione fa planare un'ombra sinistra sulla famiglia, rischiando di far saltare il matrimonio. Don Alonso, sconvolto ma irremovibile, cerca una via di mezzo. Avvicinandosi a Don Alonso, il marchese suggerisce di ritirare l'accusa per evitare un cataclisma imminente che avrebbe ripercussioni su tutte le parti interessate. L'ombra di una potenziale disputa legale e il rischio di un crollo familiare spingono il marchese a cercare un accordo. Contemporaneamente, altri segreti iniziano a svelarsi. Candela confida a Iana di essere a conoscenza della gravidanza di Pia. Gregorio nel frattempo svela una sorprendente verità a Romolo alterando i piani futuri di lui e Pia. Cruz cercando di ristabilire un clima di tranquillità assicura sia le cameriere che la servitù che non ci saranno licenziamenti. Nonostante la crescente tensione tra il duca e il marchese i due trovano un compromesso aprendo la via a un matrimonio apparentemente risolto ma sotto il quale si celano patti e intese segrete che potrebbero alterare ancora di più il futuro della giovane coppia e rivelare segreti ormai dimenticati. La complessità della situazione si amplifica con ciascun personaggio portando con sé segreti e scelte che potrebbero deviare il corso degli eventi. Questo è quanto per le anticipazioni della soppopera che andrà in onda a breve su canale 5 rimani sintonizzato per non perdere gli aggiornamenti grazie e a presto ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime anticipazioni sulla promessa di iscriverti e di iscriverti